Oggi i test per l'ammissione a medicina e chirurgia e c'è un grandissimo successo. 2713 tra ragazze e ragazzi che provano il test per entrare presso l'Università di Catania. È un bellissimo segno. Ciao, sono Chiara, ho 20 anni e sto provando il test di medicina. Vorrei fare i droginesi della Pia, che sarebbe fisioterapia in acqua. Ho medicina estetica o ginecologia. Innanzitutto spero di entrare quindi medico generale e poi mi piacerebbe specializzarmi in oncologia. Io vorrei fare il cardiochirurgo. Nonostante il momento di difficoltà dell'Ateneo di Catania, la risposta c'è. L'Università di Catania l'ho scelta sì perché ne parlano molto molto bene come università, ma anche perché è la città in cui vivo e vorrei continuare gli studi qui. Ovviamente questa è la mia terra e sarebbe il massimo riuscire ad entrare qui. Ho messo tutte le altre scelte, ma come prima scelta ho messo Catania. Per noi è una grande responsabilità. È una grande responsabilità perché le famiglie ci affidano i loro figli e noi dobbiamo formarli. Dall'Università di Catania mi aspetto innanzitutto preparazione. Mi aspetto di avere una buona carriera e che questa laurea, soprattutto in questa facoltà, mi possa dare delle buone opportunità lavorative. Di avere una formazione professionale in quest'ambito ottima. Dall'Università mi aspetto collaborazione tra studenti e professori. Spero di trovare in ogni caso un bel ambiente, anche belle classi e nuove amicizie. Ragazzi e ragazzi, è il momento più importante forse della vostra vita, il momento in cui scegliete il vostro futuro. So che avete studiato tanto e allora, davvero un in bocca al lupo sincero. Un in bocca al lupo sincero per la costruzione di un futuro radioso. In bocca al lupo a tutti i ragazzi che stanno provando il test di medicina a Catania. Spero per tutti che vada bene, il meglio possibile. Buona fortuna a tutti quanti, ci meritiamo di entrare. Abbiamo studiato, ci siamo impegnati, quindi prendiamoci il nostro posto. Voi ce la metterete tutta, noi ce la metteremo tutta da parte nostra. Buona fortuna a tutti e speriamo anche a me.